ciao bella gente e benvenuti nel mio canale io sono amal e oggi vi ho portato una tecnica per fare il styling per i capelli ricci favolosa dal primo uso alla prima asciugatura avrete questo volume meraviglioso non so se riuscite a capire il volume che c'è qua la soddisfazione è enorme spero che vi la trasmetto se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità buona visione prima di tutto ho lavato i capelli l'ho lavato ho fatto un lavaggio normale quello che faccio sempre col bicarbonato e adesso vado applicare un po di crazy color per dare col tocco rossiccio ancora nei miei capelli anche se di rosso è rimasto davvero molto poco dopodiché applico su tutti i capelli un po di cantù io il cantù l'ho comprato saranno quattro mesi fa o di più o sei mesi fa sapendo che se lo metto completamente una maniera pesante sui capelli impisantisce tanto i capelli da una bella definizione però li impisantisce tanto allora li metto un pochino sui capelli e vado applicare la vasellina che ho fatto sciogliere davanti la stufetta elettrica perché se lo applicate solida si spattacca si 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 rimane solide sui capelli quindi non da un bel effetto e non vi da un bel risultato quindi vi consiglio sempre di farla sciogliere io la vasellina la uso sia durante il style che dopo per fissare i capelli perché non uso né gel né banio schiuma adesso vado a separare i capelli con questo modo che è questa qua credo il terzo quarto lavaggio che uso questa tecnica e mi trovo davvero molto bene perché mi aiuta a avere un styling bello ma molto veloce perché le ciocche sono già separate perché io li separavo una maniera diversa non è che mi dava tardavo più tempo guarda per fare il styling potete utilizzare tranquillamente anche il pettine marocchino quello classico economico è perché questa tecnica va con due passaggi prima ho messo l'ola cosmetic adesso vi faccio vedere come funziona praticamente passa sono due passaggi il primo si passa rullando i capelli o facendoli passare proprio sul bordo il secondo passaggio e pettinarli normale senza farli passare al bordo questa qua è una tecnica che sembra facilissima scontatissima ma fidatevi vi dà una grandissima differenza questa tecnica la potete utilizzare sia con il denman il pettine denman il pettine marocchino o il pettine quello di flexi brush quindi vi dà lo stesso identico risultato io l'ho già provato è veramente favoloso in frattempo che faccio style vi racconto una e dopo faccio il crunch faccio un po di crunch per affermare i ricci guardate che ricci bellissimi davvero molto belli però comunque la vaselina fa il suo al suo perché per chi ha cominciato a usare la vaselina come me mica mi capiscono perfettamente se non l'avete mai usata provatela perché veramente vi cambia il risultato sui vostri capelli e comunque adesso parliamo di shakira che tutto il mondo parla di shakira soprattutto qua in spagna ha fatto un boom pazzesco la canzone nuova io sopra vi lascio il video che ho fatto una traduzione letterale parola per parola della canzone però una parte che non avevo scritto una parte che non ho detto che è praticamente per chi non sa shakira viveva accanto alla sua suocera io questa cosa non lo sapevo io non seguo tantissimo i gossip e un gamer che io seguo ha detto proprio così ha detto che lei viveva accanto della della suocera quindi lei doveva mandar giù la suocera mandar giù i familiari di lui figuriamoci cosa si fa cosa si fa per amore e la seconda parte che questo gamer mentre stava commentando il la canzone di shakira lui ha detto ma figurati pichè non risponde non risponde neanche anzi farà due o non risponde proprio o se ne frega completamente oppure sicuramente andrà andrà a fare un contratto con cassio effettivamente ha fatto il contratto con cassio infatti lui ha un'intervista credo un programma che si chiama king qualcosa che si parla di calcio e ha pubblicato a che ha fatto il contratto con cassio che regala ore orologi in giro e anche lui ci guadagna qualcosina su ovviamente non guadagna le cose che guadagna ha guadagnato shakira perché la canzone nuova che ha fatto ha toccato 70 milioni di visualizzazione in un giorno su spotify erano 14 milioni qualcosa del genere e lei ha guadagnato un sacco di soldi per questa cosa qua è una regina lo può permettere e capisco che lei l'ha fatto al di là del dolore o al di là dell'interesse o al di là della tristezza o rancore io credo che tutta sta storia è solamente storia economica credo è e ha fatto bene ha fatto una canzone per la rivente rivincita di tutte le donne che sono state tradite e tutte le donne che sono state prese in giro e qua per lo meno qua in spania è un boom pazzesco in italia non ho assolutamente idea non so se seguite il sicuramente seguite il gossip però comunque se volete il senso della canzone andate a vedere il video che ho fatto l'ultimo video che ho fatto che pubblicato venerdì guardate adesso vado a fare un po di rock and roll per separare le ciocche ma guardate che riccio favoloso capelli super luminosi super mega idratati perché l'idratazione è importantissima e soprattutto questa tecnica davvero mi piace se la provate fatemelo sapere bella gente se vi piace questo video se vi piacciono i miei video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità e se volete che vi faccio una traduzione di un commento che ha lasciato shakira su instagram lunghissimo davvero molto toccante fatemelo sapere gente guardate che dei ricci sono spettacolari vado a dare un po di volume ai capelli ovviamente come sapete io non in dato non idrato la radice perché voglio che mi da il volume si è dato tanto la radice saranno ovviamente belli capelli separati bene tutto il resto però non saranno molto molto voluminosi come piacciono a me guardate che belli guardate che aumenta la luminosità così riuscite vedere la meraviglia guardate che belle stu pe di stupendi 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 bella gente se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e alla prossima e buona domenica a tutti ciao